Un polizia che fumò a la casa e se llevò all'armo sotipististi e non secer Un poizia che fumò che fumò all'armo sotipisisti e non secer all'armo sotipististi e non secer Als agerza cosa che las fadere non PF non proteggo i finti come in desen Socacius che su staccard allora siamo quasi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.